Sono Alessandro Ricciari, direttore di Artex, che è il centro per l'artigianato artistico e tradizionale della Toscana. La novità delle mostre dell'artigianato non è tanto cercare la novità, è ricercare il bello e credo che tra il bello una delle cose più interessanti sia anche il padiglione visioni dove ci sono gli artigiani giovani emergenti. L'artigianato direi che è per sempre, nel senso che al contrario di un oggetto che accosta poco, lo si butta via, l'oggetto dell'artigianato è un qualcosa che ricorda chi l'ha fatto e quella particolare emozione nel comprare l'oggetto. Bene, possiedono diversi, però la cosa più divertente forse sono i servizi in argento, quelli che un tempo compravano tutte le famiglie piccolo, borghesi, questo è proprio il segno dei tempi, è mutato, non sono più comprati l'argento per questo motivo e quindi è insieme un ricordo e un cambiamento dei comportamenti. Noi siamo gli angeli dell'artigianato, se ne occupiamo professionalmente da più di 20 anni, credo che più angeli di noi non ci sia nessuno. Grazie. 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 Grazie.